Morti sul set avvenute in circostanze misteriose. Ciao, sono Valerio Novara. Oggi parliamo di misteri che riguardano il mondo del cinema e in particolare di tutte quelle morti famose avvenute su un set cinematografico. Ma partiamo subito dalla prima. Il caso più recente di morte su un set cinematografico vede protagonista, ahimè, Alec Baldwin. L'attore infatti ha ucciso la direttrice della fotografia e ferito gravemente. Il regista del film western Rust durante le riprese del film con una pistola di scena. Questo incidente è solo l'ultimo di una serie di controverse vicende che hanno portato alla morte di attori, produttori, registi durante le riprese in set cinematografici. Fu ugualmente un colpo di pistola a uccidere Brandon Lee sul set del Corvo il 31 marzo del 1993. Tra l'altro le telecamere erano accese quando l'attore che interpretava Fanboy sparò accidentalmente a Lee uccidendolo. Secondo i produttori del Corvo fu colpa di alcuni membri della troupe che avevano lasciato all'interno della pistola un proiettile insieme agli altri caricati a salve che avrebbero dovuto essere usati per le riprese sul set. C'è anche il crocodile dandy della tv australiana tra le morti famose avvenute sul set. Morì durante le riprese di un documentario sulla fauna della barriera corallina in Australia. Sopravvissuto a incontri con predatori e animali velenosi si rivelò fatale una puntura di una razza molto particolare che lo colpì in pieno petto. Henry O'Connor invece era la controfigura di Vin Diesel sul set di XXX. Era uno stuntman e paracadutista molto famoso nel settore. Ebbene durante le riprese si lanciò da un'auto in volo rimanendo però ucciso perché andò a sbattere contro un ponte. Alla fine la scena venne tenuta nel film tranne il tragico finale. Nel 1985 Tom Cruise veniva consacrato a Hollywood per la sua interpretazione nel primo Top Gun. Durante le riprese però l'istruttore di volo Art Scholl precipitò col suo mezzo a 900 metri d'altezza nell'oceano Pacifico. Non furono ritrovati né il corpo né l'aereo. La serie tv Ai confini della realtà di Steven Spielberg passò alla storia anche per la morte di tre membri del cast durante le riprese. Un elicottero che stava facendo delle acrobazie pirotecniche precipitò addosso all'attore Vic Morrow e uccise anche due bambini vietnamiti che erano stati selezionati per le riprese. Cabarettista e comico molto amato negli Stati Uniti Red Fox fu un'icona per gli afroamericani e nel 91 però morì durante una puntata di The Royal Family. A ucciderlo fu un infarto ma gli altri membri del cast all'inizio non presero sul serio la cosa perché uno dei siparietti di Fox era proprio la simulazione di un attacco cardiaco. Invece quella volta era morto per davvero. Seth maledetto da record è stato quello della serie tv indiana The Sword of Tipu Sultan dove nel 89 persero la vita, pensate, ben 62 persone rimaste intrappolate e poi bruciate nel grandissimo incendio che colpì lo studio cinematografico dove si stavano svolgendo le riprese. Il regista fu uno dei superstiti e stette in ospedale per 13 mesi pensate per sottoporsi a 72 interventi per ridurre le ustioni. C'è stata poi la morte di John Ritter l'11 settembre del 2003 A ucciderlo durante le riprese della sitcom Otto semplici regole fu un arresto cardiaco. Era il 12 ottobre dell'84 quando John Eric Exum portò alla tempia per gioco una Magnum 44 che avrebbe dovuto essere usata per le riprese di cover up. C'è da dire che la pistola era stata caricata a salve ma la pressione esercitata sul cranio mandò dei frammenti all'interno della testa e sei giorni dopo l'attore morì in un ospedale di Beverly. Passiamo a Martha Mansfield grande star hollywoodiana degli inizi del Novecento morì sul set di Warren's of Virginia perché il vestito le prese fuoco e iniziò a bruciarle addosso a causarle delle ustioni così gravi che morì pochi giorni dopo in un ospedale di San Antonio. Tra gli altri incidenti mortali che hanno ucciso membri della troupe ricordiamo quello di Joy Harris rimasta uccisa nel 2017 sul set di Deadpool 2 dopo un incidente con la moto. Nel 2014 l'assistente operatrice Sarah Jones è stata colpita e uccisa dal treno mentre si girava una sequenza sulle rotaglie per Midnight Rider. Nel 2008 nel Cavaliere Oscuro che ricordiamo anche per la misteriosa morte di Heath Ledger avvenuta dopo le riprese per un mix di anestetici, farmaci, antidepressivi c'è stata la morte di uno stuntman che si sporse troppo dall'auto sulla quale viaggiava e andò a finire contro un albero. Nel 2008 un addetto ai costumi venne colpito da una sacca di sabbia e ghiaccio durante le riprese di Jumper il film fantascientifico con Samuel L. Jackson. Insomma, non sono state poche le morti misteriose avvenute su set cinematografici durante le riprese. Fatemi sapere se le conoscevate se ve ne vengono in mente altre scrivetemele nei commenti anche per raccontarle agli altri ragazzi che ci seguono. Iscrivetevi al nostro canale YouTube Ciac Reazione seguiteci su Facebook e Instagram dove tutti i giorni raccontiamo storie e diamo news e novità che riguardano il mondo del cinema e delle serie tv. Al prossimo video! Grazie a tutti!